La BRC è un'azienda che si occupa prevalentemente della trasformazione delle auto a benzina in GPL o metano. Esportiamo in 70 paesi del mondo, abbiamo mercati importanti come India, come Turchia, come tutta l'Europa, Sud America, Australia, mercati che adoperano i nostri prodotti e abbiamo unito l'utile al dilettevole. Sicuramente la passione che abbiamo per le auto da corsa, sia a pista che a rally, ha fatto sì che fossimo portati a testare i prodotti della BRC facendo correre delle macchine a GPL sia in pista che nei rally. Quest'anno abbiamo sfiorato il titolo italiano per pochi secondi, dimostrando che un'automobile a GPL è performante, è sicura e come prestazioni non ha niente da invidiare alle macchine a benzina. Grazie a tutti!